Parcrescere l'Africa conviene all'Italia. In Calabria il Vice Ministro agli Affari esteri Edmondo Cirielli, prima tappa calabrese nella sede di Confindustria a Crotone, poi a Marcellinara e Locri sulla crisi in Medio Oriente, nostro interesse che rimanga un'operazione di difesa di Israele. Anche l'antitrasse a sostegno del porto di Gioia Tauro, la direttiva UE, va riesaminata. L'autorità garante della concorrenza e del mercato sollecita le istituzioni italiane ad attenuare la distorsione della norma europea sulle emissioni. In Calabria, leggero incremento della popolazione straniera, i dati del dossier statistico immigrazione presentato all'UMG. Gli stranieri nella regione sono il 5,1% della popolazione sotto la media nazionale. Terapia del dolore, UMG in prima linea, nuove armi contro fibromialgia e ulcere, riflettori accesi su alcune patologie del sistema nervoso centrale durante il corso organizzato all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Ben ritrovati, nuova edizione dell'altro Corriere Tg. Un saluto come sempre dalla nostra redazione. Apertura che dedichiamo alla politica e alla visita oggi in Calabria del Vice Ministro degli Affari Esteri Cirielli. Prima tappa questa mattina a Crotone, nella sede di Confindustria, poi a Marcellinara e infine all'Ocri. Occhi puntati sulla situazione che riguarda il Mediterraneo, la cooperazione con i paesi africani e soprattutto un occhio, non potrebbe essere altrimenti, al conflitto esploso da diversi giorni in Medio Oriente tra Israele e Hamas. Tutto questo nel primo servizio. Da un anno siamo passati da un 35% di risorse che venivano destinate all'Africa a un 65% e quindi credo che nella misura concreta già dal 1 gennaio 2022 con la cooperazione italiana è partito il piano Mattei. Queste le parole pronunciate dal Vice Ministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli questa mattina nella prima tappa calabrese a Crotone nella sede di Confindustria. L'occasione per approfondire i temi, i programmi e le attività promosse dalla Farnesina nel campo della cooperazione internazionale. Ed è proprio in quest'ottica, nella cooperazione e nel mutuo vantaggio, che il governo Meloni intende intensificare gli impegni nei paesi africani, pensando ai riflessi positivi per l'Italia che si affaccia sul Mediterraneo. Il progetto del governo però deve fare i conti necessariamente con la crisi internazionale e la nuova guerra esplosa in Medio Oriente tra Palestina e Israele dopo il brutale attacco di Hamas. Chiaro anche in questo caso il messaggio del Vice Ministro. Beh, è chiaro che il Mediterraneo è casa nostra, così come è casa del mondo arabo e del Nord Africa e quindi quello che accade nel Mediterraneo ci interessa direttamente. Peraltro Israele è l'unica grande democrazia in quell'area ed è un alleato strategico non soltanto della Nato e dell'Occidente ma lo è direttamente dell'Italia. E a proposito di Mediterraneo, parliamo ancora del porto di Gioia Tauro al centro della vicenda, come sapete ormai legata alla direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni inquinanti. In soccorso dello scalo portuale calabrese è arrivata anche l'antitrust che in un documento ha esposto alcune osservazioni e ha sollecitato le istituzioni italiane ad attivarsi per bloccare o quantomeno limitare un'autentica distorsione. Sentiamo. In soccorso del porto di Gioia Tauro che rischia di essere penalizzato pesantemente dalla direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni inquinanti arriva anche l'autorità garante della concorrenza e del mercato che in un documento espone alcune osservazioni e sollecita le istituzioni italiane ad attivarsi per bloccare o quantomeno limitare un'autentica distorsione. Per l'antitrust, infatti, si tratta di una tappa importante verso la riduzione delle emissioni che l'Unione Europea si è posta, ma l'attuale meccanismo di applicazione della direttiva potrebbe favorire la concorrenza a svantaggio dei porti italiani e di altri paesi dell'Unione Europea specializzati nel trashhipment. Quest'ultima è l'attività principale proprio del porto di Gioia Tauro. Il meccanismo di calcolo dei diritti di emissioni e dovuti favorisce nella concorrenza, secondo l'antitrust, i porti extraeuropei rispetto a quelli europei e da allora occorre adoperarsi a livello comunitario per accelerare il riesame da parte della Commissione Europea delle modalità applicative della direttiva al trasporto marittimo, prevedendo un regime di esenzione a tutela e a difesa dei porti europei, come Gioia Tauro. Voltiamo pagina perché tra il 2021 e il 2022 c'è stato un leggero incremento della popolazione straniera in Calabria, pari ad un aumento di 946 unità a fine 2022. in Calabria risiedono in totale 94.203 cittadini stranieri che rappresentano il 5,1% della popolazione complessiva. Questi sono in parte i numeri del dossier statistico immigrazione 2023 presentato ieri a Catanzaro. Tutti i dettagli nel servizio. In Calabria risiedono 94.203 cittadini stranieri che rappresentano il 5,1% della popolazione complessiva, valore che si colloca al di sotto della media nazionale. Lo evidenzia il dossier statistico immigrazione 2023 realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS insieme al Centro Studi Confronti e all'Istituto di Studi Politici San Pio V. Il dossier è presentato in contemporanea in tutte le regioni in Calabria, a Catanzaro, all'Università Magna Grecia ha mostrato dati interessanti. Dopo il forte calo registrato durante la fase più acuta della pandemia nel 2021 il numero di occupati in Calabria è aumentato dell'1,5% rispetto all'anno precedente raggiungendo le 529.000 unità. A differenza di quanto rilevato nel 2021 l'incremento degli stranieri è stato però inferiore a quello medio registrato nel Mezzogiorno e in Italia. Il contingente degli stranieri rappresenta il 6,5% del totale degli occupati in Calabria il 36,7% sono donne. Nei confronti dei migranti forse non è più bastevole dire che dobbiamo essere accoglienti dobbiamo cercare di puntare all'integrazione loro dobbiamo mettere al centro della nostra riflessione che bisogna interrompere quella guerra che si fa ai migranti in quanto stranieri in quanto portatori di una cultura nuova una civiltà, un'esperienza diversa. I migranti impattano sul diritto del lavoro su diversi ambiti, su diversi aspetti e ne cito solo due per non rubare troppo tempo. Uno riguarda proprio la stipulazione del contratto di lavoro e il secondo ambito importantissimo è quello delle prestazioni sociali. C'è spazio anche per una notizia di Crona che ha ancora un drammatico evento che ha scosso il cuore del centro storico di Corigliano dove le fragili fondamenta di un edificio hanno ceduto intrappolando una donna di 38 anni sotto le macerie. Il collasso improvviso del solaio ha scatenato un'operazione di soccorso frenetico con il personale di emergenza che si è affrettato sul luogo del disastro. La vittima, identificata come la donna nel cui nome è stato tenuto riservato è stata prontamente soccorsa dai Vigili del Fuoco e dopo averla estratta dalle rovine è stata trasferita nel risoccorso all'ospedale di Cosenza per ricevere cure immediate. Cambiamo adesso argomento parliamo del diamagnetismo e le sue innovative applicazioni nella terapia del dolore tema di cui si è discusso nel corso teorico-pratico organizzato all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Il diamagnetismo e le sue innovative applicazioni nella terapia del dolore è da circa due anni che nell'ambulatorio dell'Unità Operativa di Farmacologia Clinica dell'Università Magna Grecia i pazienti si sottopongono ad un trattamento che esplora nuove strade per la cura del dolore nell'ambito delle più importanti patologie del sistema nervoso centrale. Dei risultati ottenuti e delle nuove frontiere di questa scienza in via di formazione ne hanno discusso medici e ricercatori esperti del settore in un corso teorico-pratico aperto a studenti e patrocinato dal garante della salute della regione Anna Maria Stanganelli. Un strumento unico in Italia nella disponibilità dell'Unità Operativa di Farmacologia che potrebbe fornire un nuovo approccio terapeutico su tante patologie di cui si discuterà. Voltiamo decisamente pagina ci rendiamo adesso a Locri per un incontro organizzato presso la biblioteca di Palazzo Nieddu per la riascoperta della Magna Grecia attraverso le figure di Zanotti Bianco e Paolo Orsi. Sentiamo. La riscoperta della Magna Grecia attraverso due figure estremamente significative Zanotti Bianco e Paolo Orsi un evento per celebrare i due studiosi dal cui sodalizio ebbe inizio una fase molto importante per la Locri dell'intera Calabria è stato organizzato dal comune di Locri dallo locale sezione dell'Arche Club d'Italia e dal circolo di lettura Aras e si è svolto presso la biblioteca comunale di Palazzo Nieddu. Questo pomeriggio parliamo di Umberto Zanotti Bianco e Paolo Orsi all'indomani di comunque due giornate molto importanti qui a Locri con l'associazione di tradizione classica italiana e il comune di Locri dove addirittura è stata comunque inaugurata anche un'importantissima mostra a livello internazionale quindi abbiamo voluto inserire proprio all'inizio settimana un incontro dove parliamo di due figure importantissime che comunque hanno lasciato una traccia di ricerca importantissima per la ricognizione storica della nostra tradizione e della nostra civiltà. Zanotti Bianco è una figura importantissima di grande meridionalista che ha fatto per la Calabria quello che tanti governi non sono riusciti a fare in anni e in anni di lavoro e insieme con il sodalizio con Paolo Orsi ha fatto sì che si occupassero oltre che dell'alfabetizzazione della popolazione meridionale soprattutto dei monumenti e della storia dell'archeologia della Calabria. Il taglio del nastro ha dato il via la cerimonia di apertura della seconda edizione di Belgare evento organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Bergamotto la città metropolitana e il Comune di Reggio Calabria insieme a tutte le associazioni di categoria. Il profumo del Bergamotto di Reggio Calabria invade la città dello Stretto e tutta la regione. Il taglio del nastro ha dato il via alla cerimonia di apertura della seconda edizione di Bergare evento organizzato dalla Camera di Commercio Regina in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Bergamotto la città metropolitana e il Comune di Reggio insieme a tutte le associazioni di categoria. Una vera e propria festa con ospiti illustri ed un re assoluto il Bergamotto. Quattro giorni di eventi con protagonisti chef pasticceri cuochi giornalisti profumieri tutti coinvolti con una unica mission scoprire e valorizzare ancora di più e meglio il Bergamotto di Reggio Calabria. Un evento che tende a promuovere il Bergamotto il Bergamotto il re degli agrumi è un prodotto fortemente identitario di un territorio del nostro territorio e attraverso Bergare promuoviamo un po' tutta la filiera bergamotticola dalla profumeria alla pasticceria alla cucina insomma tutti gli utilizzi che oggi si fanno di questo importante agrumi. in chiusura del nostro OTG lo sport con il calcio si gioca all'undicesimo turno nel fine settimana del campionato di Serie B il Catanzaro da secondo in classifica sfida in trasferta il Como così mister Vivarini alla vigilia del match A noi ci aiuta molto sotto questo aspetto qua il nostro pubblico perché comunque vedere l'entusiasmo che c'è sugli spalti vedere l'entusiasmo che troveremo a Como da parte loro è chiaro che questo è quello che avvertiamo maggiormente per quanto riguarda la partita e che ci aiuta tantissimo perché comunque i ragazzi si sentono importanti si sentono diciamo forti si sentono con le spalle coperte quindi sono tutte cose che danno carica danno forza che portano sicuramente dei benefici importanti alla squadra poi per quanto riguarda tutto il resto dobbiamo pensare solo esclusivamente alla partita di domani non dobbiamo stare a pensare a quello che si è fatto il passato è passato conta solo esclusivamente la partita di domani perché sappiamo che se facciamo bene è tutto ok chiaramente se le cose non vanno come devono andare ci sono problemi quindi al di là di tutto quello che è stato di quello che è successo quindi ci proiettiamo su questa partita con la testa giusta bene è tutto per l'edizione del nostro OTG grazie per la vostra cortese attenzione vi lascio adesso i programmi dell'altro Corriere TV buon proseguimento per la vostra Grazie.